Cosa ci ha portato al trasloco, sostanzialmente al cambio di residenza? Forse di causa maggiore, ma come al solito siamo stati capaci, perché siamo una contrada tenace, di trasformare le difficoltà in opportunità. E quindi da una situazione potenzialmente difficile abbiamo tratto il massimo del beneficio e siamo stati in grado di portare la contrada ad avere una nuova casa, una nuova casa definitiva, forse questa è la cosa più importante di tutte. Le emozioni sono tante, come sono state tante anche le emozioni in realtà nel lasciare il vecchio al quale erano legati comunque 30 anni di ricordi, che qui ancora devono essere costruiti, devono farsi, quindi sicuramente sono due tipi di emozioni differenti. Qui c'è una pulsione verso il nuovo, verso la voglia di fare, di costruire qualcosa di differente che chiaramente ti spinge, dall'altra parte c'è tutta una serie di ricordi legati al passato. Le aspettative sono inevitabilmente sempre molto alte. Credo che l'importante sia la consapevolezza di aver dato il massimo, di aver fatto tutto quello che era delle proprie opportunità per tentare di cogliere il risultato migliore. Noi in questi quattro anni l'abbiamo fatto, in step successivi, ogni anno diverso, ci ha portato a un risultato importante come quello di una casa nuova, anche quello sicuramente di un risultato positivo a livello di corsa, sono sicura che arriverà anche quello, però l'importante è avere un popolo soddisfatto e consapevole delle potenzialità che la propria contrada possa esprimere.